Pronti? Uno, due, tre! Questa volta il segnale è valido, cavalli che vanno in partenza con lo scatto da parte di Mechigriff che è volato via velocissimo. Seconda posizione si è sistemato, addirittura No Way B che ha colto ottima partenza riconoscendo in breve la penalità. 16,7 il primo riferimento cronometrico, con a comandare troviamo sempre il numero 5 di No Way B. 16,4 la frazione per Mechigriff che continua a comandare, all'esterno nel frattempo prova l'avanzata Olgiata. Il numero 8, anzi no, il numero 8 di Isoverde Ligure che avvicina Mechigriff, trascinando stessa volta Primavera AS in Pariglia con il numero 9 di No Way B. Cavalli che vanno al passaggio davanti alle tribune, 17,7 per questa frazione, con sempre Mechigriff in vantaggio, con all'esterno Isoverde Ligure e poi la Pariglia formata all'interno da No Way B, con all'esterno Primavera AS. Attacco del giro conclusivo, non ci sono variazioni di sorta, continua sempre a comandare il numero 5 di Mechigriff, la frazione in 16,1. Ora i due penalizzati, vale a dire Isoverde Ligure e No Way B, che braccano il leader della corsa in posizione di attesa Olgiata, con Mechigriff che improvvisamente accelera i 600 conclusivi, 14,5 la frazione, con in seconda posizione sempre No Way B, perde qualche battuta nel frattempo Isoverde Ligure, 13,8 la frazione con Olgiata ora che trova lo spazio per poter correre, cerca subito di avanzare, nel frattempo Mechigriff affronta in vantaggio la addirittura di arrivo, scappavia Mechigriff a centropista, va a sprintare Olgiata, Olgiata che va alla caccia di Mechigriff, Olgiata che ci crede e ci prova, Olgiata che va su Mechigriff e proprio nei pressi del palo, Olgiata, giustizia, Mechigriff e No Way B terminati nell'ordine. 2,49 il tempo totale da parte del vincitore, 1,18,1 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 28,6,13,3 per l'addirittura di arrivo, Olgiata, Leonardo Vastano vanno a siglare questa batteria B del trofeo delle regioni, 6 al primo, 5 al secondo e 9 al terzo, 6,5,9 il probabile ordine d'arrivo numerico ed ufficioso per questa ultima corsa del pomeriggio all'ippodromo d'Abruzzo.